Buonasera Floris, eccoci per commentare la partita, la vittoria del tuo atletico Sparta, soddisfatto dei tuoi ragazzi? Soddisfatto pienamente, oggi eravamo tutti, non si è fatto male a nessuno, hanno giocato benissimo, complimenti anche agli avversari, è andato tutto come dove andava Verso gli ultimissimi minuti c'è stato un brivido, lì si è avuto una chance per portarsi in parità Dopo che invece i tuoi ragazzi hanno comunque gestito, seppur una partita equilibrata, per quasi tutto il tempo Poi è arrivato il gol dolcia fredda per gli avversari del 3-1, c'è stato però un attimo di brivido, una disattenzione secondo te a livello mentale, un calo? È stato uno svarione difensivo, abbiamo abbassato un po' l'intensità, loro sono stati bravi che hanno messo il secondo centrocampista Abbiamo ritardato nella copertura del centrocampo e abbiamo preso il gol Abbiamo preso subito le misure con il secondo centrocampista nostro Abbiamo fatto il gol che poi ci ha dato un po' di distacco e è portato a termine la partita così in vantaggio Invece volevo commentare, farvi complimenti a voi della panchina perché ho visto che nel timeout avevate trovato in quei minuti precedenti difficoltà di uscire al centrocampo C'era Fabri un po' isolato e poi invece ne siete usciti bene, quindi vi siete riassestati a livello tattico e posizione dei ragazzi in campo E l'avete fatto bene e in maniera efficace perché poi avete segnato il 3-1, avete portato a casa il risultato Esatto Grazie allora, complimenti a Federico Sparta Grazie a tutti